La mia esperienza è iniziata ad un'età giovanile, per la verità con la bicicletta partecipando. Poi sono passata aspetti agonistici e poi sono passata con la buona, diciamo, il comitore sempre di ciclismo. Quindi, insomma, sostanzialmente è stato un approccio, tra le altre cose, anche, diciamo, dai miei genitori, che facevano parte, per cui, che comunque è sempre stato esclusivamente esclusivo, parole relativamente pedalata, ma anche attività, anche di tipo, per le quali appunto mi sono dedicata.